Per finire, monsieur, posso offrire una mentina? No! Per finire, monsieur. Per finire, monsieur, posso offrire una mentina? Non è che abbiamo scelto un testo che ci sembrava carino per rappresentare le nostre riflessioni. No, è un testo che viene proprio dagli attori. Aiuta questo progetto e sarai invitato alle nostre serate. C'è bisogno di te, della tua presenza, del tuo pensiero. È questione di cortocircuito, di idee contro la solitudine. Perché c'è fame di cibo vero, di ideali e di solidarietà. Non si vive di soli centri commerciali. Merci beaucoup, monsieur. E ecco il conto. Grazie. 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 Grazie.